Con Nicolai Ucchikov per commentare questi primi tre mesi di stagione con la Trentino Valle. Come ti stai trovando, Nico? Bene, bene, molto bene. Stiamo bene. Io sto bene anche fisicamente. Penso anche meglio dall'inizio, quindi a posto. In queste ultime partite Stoic-CVT ha utilizzato di più e probabilmente per te a Belgrado ci sarà un'intera partita da titolare. Come vivi questo momento e soprattutto cosa ti aspetti dal match contro la Stella Rossa? Sì, è una bellissima occasione per me. Sicuramente lì mi aspettava una partita da giocare, una partita dove dobbiamo andare con tutta la nostra forza e dobbiamo giocare soprattutto bene, ma dobbiamo vincere anche. Quindi andiamo ben carichi. Vista da dentro, questa Trentino Valle, com'è anche a livello di spogliatoio? Bellissimo, bellissimo. Con campioni così come questi è sempre bello. Adesso c'è qualche occasione in più per te per giocare, anche per far rifiattare i titolari. La cosa che ti ha impressionato di più anche fra gli allenamenti o le partite di questa Serie A1 o in generale di questo ambiente? In generale no, niente particolare, però diciamo la qualità del lavoro e dei giocatori è molto alta. Tutto questo ovviamente sarà solo in A1.